Ma lo sai che ci pensavo prima, un anno fa tu sei venuta qua, cioè eri già venuta altri anni, e avevamo annunciato la notizia, secondo la quale tu, non si può dire dire direttrice, si deve dire head of channel, di Le Fonte TV. Quindi un anno, possiamo fare un po' un bilancio dei 12 mesi, come va in questo emittente? Certo, è vero, l'avevamo annunciato qui perché io ero diventata head of channel, appunto, la responsabile della parte televisiva da poco. Il bilancio, insomma, è importante perché non ci dimentichiamo che abbiamo vissuto un altro anno di, non cito... Così così, così così, un anno fa. Esatto, così così per le ragioni che sappiamo. Però devo dire che abbiamo sempre molto lavorato, garantendo un'informazione anche molto spesso un po' complicata dalla situazione che abbiamo vissuto, in chiave, come dire, propositiva, che è quello che c'eravamo anche un po' ripromessi qua l'anno scorso, cioè quello di ovviamente informare su quanto stava accadendo a livello sociale barra economico, perché poi appunto Le Fonte TV ha il focus economico finanziario e abbiamo lavorato bene, abbiamo ingrandito anche la parte redazionale proprio a livello di contenuti, di... Abbiamo spaziato, diciamo così, è stata una bella sfida, io devo essere sincera anche grazie al team, insomma, che ha collaborato veramente bene, qui c'è Alexandra Giorgeva che ha lavorato con me veramente in modo duro, ma sempre con, appunto, come abbiamo detto prima, con un'impronta propositiva, però abbiamo lavorato tutti insieme molto bene, quindi abbiamo raggiunto molti risultati e è stato un anno positivo. Grazie.